Prende la parola il Magnifico Rettore per il saluto di benvenuto. Care dottoresse e cari dottori di ricerca, carissimi familiari, signor Sindaco, gentili ospiti, benvenuti a questo incontro così importante per la nostra comunità. La cerimonia che ci trova uniti oggi nell'Aula Magna di Santa Lucia è l'ultima di una lunga serie che ha attraversato la primavera e l'estate di questo anno accademico, dalle lauree ad honorem ai diplomi per i professori meriti. Questa cerimonia ha però qualcosa di specifico che vorrei sottolineare subito. Avviene all'interno della comunità di cui fanno parte i professori e gli studenti e costituisce un momento dal valore molto alto, forse il più alto tra tutti. In questa sala tra di noi ci sono oggi coloro che entreranno nella vita universitaria o nel mondo del lavoro con un passaporto particolare, una specie di documento che attesta non solo la loro appartenenza all'Alma Mater, ma anche la specializzazione con cui hanno trascorso tre o quattro anni di lavoro molto intenso all'interno della nostra comunità. Voi tutti sapete probabilmente che il dottorato di ricerca è nato come percorso specifico per avviare alla carriera universitaria, ma oggi nel linguaggio sempre un po' ambiguo della burocrazia si parla di terzo livello della formazione. Di sicuro aver finito un ciclo di dottorato è essenziale per entrare nella carriera universitaria, ma nello stesso tempo la preparazione del dottorato garantisce le condizioni migliori per poter affrontare e avere successo in qualsiasi ambiente di lavoro. Penso che l'impegno richiesto da questo ciclo di studi sia massimo e assolutamente proficuo. Forse qualcuno di voi avrà visto la registrazione del discorso con cui un grande docente dell'alma mater, Umberto Eco, scherzava sulla capacità di far funzionare i neuroni cerebrali con risultati eccellenti fino ai venti anni, dal momento che dopo inizia un processo irreversibile di degenerazione. Eco scherzava, ma diceva anche qualcosa di molto vero. La testa funziona in maniera formidabile proprio quando si è nell'età degli studi universitari. Dopo si tratta solo di adattare alle condizioni singole quello che il cervello ha incamerato ed elaborato. Per molti l'università è un percorso accidentato ed è giusto che negli anni del 3 più 2 si inizi a sperimentare quali sono le complessità dell'apprendimento. Entrando nella fase del dottorato però le prospettive cambiano. Si passa dalla condizione di chi impara a quella di chi crea qualcosa di nuovo. Chi fa il dottorato si trova nella situazione di avere a disposizione gli strumenti per poter costruire un'automobile velocissima, ma anche la necessità di disegnare la mappa del territorio su cui sperimentare quest'automobile. Da sola, senza la realtà del percorso disegnato, l'automobile non serve a nulla. Per questo ognuno di voi, se realmente ha messo a frutto gli anni di ricerca, sa anche che ha aperto nuove possibilità per percorrere le strade della disciplina nella quale ha lavorato. Non c'è disciplina che possa vivere senza rapporto della sperimentazione che viene fatta da menti giovani e flessibili. Questo non vuol dire che sia necessario inventare cose straordinarie o arrivare a risultati impensabili nella ricerca. La ricerca può procedere anche con piccole innovazioni, con risultati discreti, con pazienza ed edizione quotidiana. Molti dei docenti illustri che hanno parlato in quest'Aula sono l'esempio di percorsi intellettuali cresciuti nel tempo con grande costanza e determinazione. A volte, anche con strumenti semplici, si possono ottenere grandi risultati e sono sicuro che molti mesi della vostra ricerca sono stati dedicati a seguire con attenzione lo sviluppo e la storia della disciplina da voi praticata, capendo che dalla continuità spesso derivano i cambiamenti più duraturi. Le scuole di dottorato dell'Alma Mater sono molte e sono moltissime le materie di studio dentro le quali svolgere una ricerca. Voi tutti, qui presenti, avete fatto un grande sforzo per arrivare a questa meta e lo stesso hanno fatto le vostre famiglie, che accogliamo con grande piacere per far sentire quanto sia importante avervi qui per dare un significato profondo a questa giornata che in realtà è l'ultima della vostra carriera di dottori, ma la prima di tante possibili carriere dentro e fuori l'Università di Bologna. Ora siete gli ambasciatori di questa nostra comunità, siete coloro che potranno portarne il nome nel mondo. Anche per questo penso sia importante avere qui con noi il Sindaco di Bologna, appena rieletto l'amico Virginio Merola. Insieme crediamo nella profonda appartenenza degli studenti alla città, alle città e nella riconoscenza che Bologna deve avere per il suo popolo di studenti, sia per quelli che passano, sia per quelli che si fermano. Quando, molti secoli fa, gli studenti venivano a Bologna, era usanza che le loro famiglie lasciassero uno stemma sui muri della sede universitaria, che era l'archiginnasio, dove ancora oggi li possiamo ammirare. Là ci sono stemmi che vengono da tutto il mondo. In un certo senso l'Erasmus era già iscritto in quei muri. Voi siete la generazione Erasmus e siete cresciuti credendo in un'Europa che non ha confini, un'Europa fatta di cultura e di idee e non di paure o di regressioni nel privato. Ripensate all'entusiasmo con cui quegli studenti di 500 anni fa venivano a Bologna e riprendete in mano il presente che vi spetta, in quanto giovani, in quanto studiosi, in quanto europei. Grazie agli studenti, da secoli Bologna è la città universitaria per eccellenza. Sia il sindaco che il rettore sanno benissimo qual è il peso con cui la loro carica li lega a queste istituzioni e insieme faremo il possibile per rendere città e università sempre unite nell'eccellenza che caratterizza i secoli della loro storia. Abbiamo però bisogno del vostro aiuto, della vostra collaborazione e del vostro impegno. ognuno di voi porti idealmente lo stemma di Bologna in giro per l'Italia e per il mondo. Con questo passaporto potete varcare qualsiasi frontiera. Grazie al vostro studio di questi anni siete a tutti gli effetti, cittadini dell'Alma Mater, cittadini di Bologna, cittadini della cultura nell'Europa e nel mondo. Grazie.